Questa è la video lezione sul funzionamento di CamStudio questo programma gratuito, freeware, che presento al corso è un programma residente in una cartella è un programma portabile, questa è la cartella nel quale lui risiede la cartella è CamStudio questo CamStudio qui invece sarebbe installabile nella macchina andiamo con quello portabile perché può essere messo su una chiavetta ed essere sempre disponibile apro la cartella e per attivare il programma basta cliccare su Recorder doppio clic su Recorder e a questo punto ecco qui il programma subito efficiente il programma si presenta così, con una micro palette di attivazione con registra, pausa, stop qui scelgo il formato, se avi o flash in questa tabella posso scegliere se una regione o tutto lo schermo io ho scelto la regione e praticamente ho scelto lo schermo senza la barra di applicazione di Windows nelle opzioni scelgo se registrare dal microfono o da altre sorgenti e nei tools scelgo se voglio fare delle annotazioni sullo schermo o video annotazioni ma a me basta semplicemente registrare lo schermo per spiegare come funziona il programma il programma registra qualsiasi cosa adesso io voglio mostrare cosa ho intenzione di fare oggi quindi mostro il documento della lezione odierna che si sta ripristinando perché è mancata la corrente e siamo rimasti alla cieca questo è il programma che voglio oggi affrontare da le risorse per le mappe al trasporto delle nostre risorse online con Dropbox fino all'inserimento nelle mappe CAM Studio fa parte di questo plafond perché mi permette di fare delle registrazioni in micro lezioni o anche micro appunti un altro programma che ho intenzione di affrontare nella ripresa dopo l'intervallo è fotostorio, fotostorio è strepitoso perché basta avere un numero di foto inerenti a un certo argomento trascinarle sullo storyboard, sempre per windows è sempre gratuito e in tre passaggi posso inserire una voce di commento, della musica, cliccare chiudi e lui mi fa il video naturalmente è un video per windows ma con tutti i servizi che oggi ci sono online è possibilissimo trasformarli in altri tipi di video questo è l'uso di CAM Studio, io adesso non faccio altro che riaprirlo e chiudere con questo bottone e poi dopo scegliere la posizione di salvataggio del file dovrò attendere qualche minuto perché il file si salvi e poi me lo riguarderò in formato AVI adesso spengo e buona sperimentazione